I sindaci del Cassinate sono andati davanti a Montecitorio per manifestare contro la discarica di Roccasecca e il suo recente ampliamento. Detta così è fin troppo semplice, la faccenda è ben più complicata. Partiamo da un presupposto, è stato giusto andare lì a manifestare, è inconcepibile che per aggirare le leggi che impedivano l'ampliamento di Roccasecca si sia arrivati a scomodare una seduta del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, due volte, altrimenti la discarica non si allargava. Allora dove sta il problema? Quella in atto è una battaglia di principio e non di sostanza. Il principio è quello riassunto nello striscione Roccasecca e la Cioceria non sono la discarica di Roma. Peccato che sia arrivato con una decina di anni di ritardo. Siamo in un mondo globalizzato nel quale il guscio del telecomando che avete in mano in questo momento è prodotto in Europa e l'elettronica che c'è dentro viene dall'Asia. Tutto è collegato. A quei rifiuti oggi in provincia di Frosinone sono collegate centinaia e centinaia di posti di lavoro e un intero ramo industriale che si è sviluppato. Abbiamo una delle principali industrie in Italia ad esempio nel riciclo della carta classificata come rifiuto. Varie imprese che si occupano di plastica, materia prima considerata rifiuto. Metalli pregiati che vengono recuperati dall'elettronica che buttiamo, computer, televisori, frigoriferi. Ecco perché il principio è superato. Gli indicatori poi assicurano che un terzo dei posti di lavoro nel mondo arriverà proprio da questo settore, dall'economia circolare, cioè dall'ottenere nuove materie prime da quelli che oggi vengono classificati rifiuti perché siamo tanti. Non ci sono materie prime per tutti, quindi dobbiamo recuperarle da lì. È allora di sostanza la battaglia che si deve fare. Sostanza significa pretendere un ciclo industriale che sia pulito, non inquinante, garantito da leggi che sono in vigore nel resto d'Europa. Significa avere un comparto green moderno e non una buca piena di spazzatura come succedeva negli anni 80 a due passi da qui a Malagrotta. Fare una battaglia di principio però rischia di farci perdere la sostanza e cioè tutta l'economia che si sta sviluppando nell'industria delle nuove materie prime. Se all'estero fanno a gara per prendersi i treni con i nostri rifiuti e all'estero non sono più festi di noi, allora significa che forse qualche cosa ci sta sfuggendo senza ricevuta di ritorno.